Luglio è stato come ottobre, temperature ben al di sotto delle medie e tantissime piogge torrenziali. Il meteo in Italia per agosto 2014 sembra non regalare grandi sorprese rispetto a quanto abbiamo già visto. Dunque, come sarà il tempo in agosto? Se lo chiedono tutti quelli che ormai da mesi hanno prenotato la vacanza al mare o montagna e temono che l'instabilità degli ultimi due mesi possa rovinare i pochi giorni di ferie. Purtroppo, però, stando a quanto dicono i meteorologi, la situazione non sarà destinata a cambiare. Anche ad agosto permane la grande instabilità e saranno le piogge, non solo e non il sole, ad accompagnare le vacanze nello stivale. Un'estate anomala, lo abbiamo detto più volte, specialmente per la regione del centro, la Toscana e il nord Italia, come non se ne vedevano da anni. Il mese si aprirà con una forte perturbazione sulle regioni del nord, che però risparmierà il meridione, dove continuerà a splendere il sole. Dopo i primi giorni di forti pioggia, anche il nord potrà chiudere l'ombrello fino a ferragosto. Anche se le temperature estive sono ben lontane, molto probabilmente non arriveranno mai. Ad agosto, infatti, secondo gli esperti, il nord Italia non raggiungerà mai o sporadicamente i 30 gradi, come se settembre fosse arrivato troppo presto. Tutt'altro discorso, invece, per il sud, dove la stagione estiva sembrano risentire eccessivamente dell'anticiclone dell'Azzorre, che sta avendola meglio su quello africano. Qui le temperature saliranno con molta facilità sopra i 35 gradi, regalando a chi ha scelto le mete del meridione una vacanza serena e all'insegna del sole e del mare. Le precipitazioni si concentreranno sull'arco alpino, sui rilievi del centro Italia, risparmiando quindi le coste che, almeno ad agosto, possono provare a vivere l'estate. Luglio è stato funesto, le spiagge deserte, a causa del tempo instabile delle piogge, hanno causato danni ingenti al settore turistico, che però ha la possibilità di riprendersi nell'ultimo mese, approfittando dei vacanzieri di agosto e magari di settembre.